Ciao amici, bentornati sul canale Il giornalismo del cuore, la fine di una storia che ci ha accompagnato nel corso di tutta l'estate Una notizia inaspettata ha sicuramente sconvolto molti.Francesco Totti e Ilari Blasi da sempre sono stati visti come una coppia sacra, una delle più longeve all'interno del mondo dello spettacolo Si sono da sempre mostrati una coppia molto affiatata, ragion per cui non ci saremmo mai potuti aspettare la fine di questo matrimonio Un amore andato in mille pezzi.Eppure non viviamo nelle favole, non sempre esiste un happy ending Anche per Francesco Totti e Ilari Blasi è giunta alla fine e la coppia sembra essere ormai sempre più vicina al divorzio Alcuni speravano in un ritorno di fiamma, ma questa ipotesi ormai è da scartare totalmente Ilari Blasi sembra avere un nuovo presunto compagno, lo stesso vale per Francesco Totti che ormai da tempo si frequenta con Noemi Bocchi L'ex capitano della squadra Capitolina ha cercato di tenere nascosta la sua relazione per tanto tempo, ma ora sembra che stia iniziando a non volersi più nascondere Recentemente Francesco Totti è stato paparazzato dai fotografi del settimanale Chi in compagnia di Noemi Bocchi presso un ristorante a Terracina che molto spesso ha frequentato insieme all'ex moglie Totti esce allo scoperto con Noemi Bocchi.Precedentemente era stato proprio il settimanale di Alfonso Signorini a beccare il pupone in compagnia della Bocchi Totti infatti era stato paparazzato mentre si trovava con la sua auto sotto l'abitazione della donna Ora che i giochi sembrano esser fatti e che il divorzio è imminente, Francesco Totti non nasconde più la sua frequentazione con Noemi Bocchi Tuttavia, nel ristorante in cui molto spesso il capitano si faceva vedere insieme ad Ilari Blasi, non era da solo con Noemi Al loro tavolo erano presenti altre persone e i due sono anche usciti dal ristorante separatamente Dal settimanale Chi è possibile leggere quanto segue, Totti entrava e usciva dal condominio dove vive Noemi ma non si faceva vedere con lei Come allo staglio, erano vicini, ma seduti in file diverse. Come a Monte Carlo, erano nella stessa vasca idromassaggio, ma con un amico in mezzo Insomma in attesa del divorzio ufficiale, Francesco Totti continua a vivere questa relazione ancora con una certa segretezza Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme Ci vediamo nei prossimi video, fino a quando ci incontriamo nuovamente